Cari telespettatori ben ritornati con noi siamo in diretta abbiamo il piacere di riavere con noi in studio Sergio Rosato direttore di Veneto Lavoro grazie di essere qui e ci fa particolarmente piacere perché finalmente abbiamo la vera fonte dei dati delle elaborazioni delle considerazioni delle ricerche che sono state elaborate dall'ente del lavoro della regione Veneto Veneto Lavoro quindi potremo fare delle considerazioni tecniche come tra virgolette su un mondo che è in continua evoluzione che da questa preoccupazione ne chiacchieravamo infatti poco fa fuori onda con il direttore è una delle prime anzi la prima preoccupazione degli italiani dei giovani meno giovani delle persone che hanno raggiunto quasi la soglia della pensione che se la vedono portata sempre più in là e che se perdono il lavoro è veramente una tragedia lo sappiamo ce l'avete testimoniato tantissimi di voi e per i più giovani che devono ancora affacciarsi al mondo del lavoro rappresenta un qualcosa di un grandissimo punto di domanda continui i dati che vengono elaborati a livello nazionale ci dicono che c'è un flusso continuo di giovani che se ne vanno via e che cercano altre opportunità poi in che condizioni come cosa cosa trovano però di fatto trovano forse questo la speranza di poter costruire qualche cosa qui invece giustamente il direttore diceva c'è un animus un sentire molto poco costruttivo e allora vediamo di capire bene questo mondo del lavoro come si sta muovendo se ci sono timidi grandi o non ci sono segnali di ripresa per le varie categorie direttore vediamo un po' di capirci qualcosa ci dica lei la verità quali sono questi dati che ogni volta ognuno se li fa propri diciamo che per cominciare a raccontare qualcosa con dati reali effettivi dobbiamo andare un po passo un passetto alla volta perché è uno di quei temi che ti porta sempre anche a volte anche a divagare allora rapidamente così ricordiamoci tutti cosa è successo dalla seconda metà del 2008 ad oggi quindi se non ci ricordiamo questo facciamo anche fatica a capire cosa sta succedendo adesso dal 2008 ad oggi è successo che su un'economia che già dava segni di debolezza perché avevamo poca crescita avevamo poca produttività avevamo già sentori di crisi di alcuni settori importanti dell'economia veneta su questa situazione si è in qualche modo riversata la più grande crisi dal dopoguerra oggi una crisi terribile che per il veneto è stata particolarmente grave perché ha colpito l'occupazione dipendente e ha colpito i settori trainanti della nostra economia le costruzioni il metalmeccanico sistema moda altri settori e poi progressivamente ha colpito anche il terziario e la pubblica amministrazione quindi questo ha comportato con un numero solo che dalla seconda metà del 2008 alla secondo semestre trimestre del 2014 noi praticamente abbiamo distrutto qualcosa come 92 mila posti di lavoro è come se ci fosse sparita di colpo una grande impresa una fiat si avesse chiuso e questo lo naturalmente però non è avvenuto in maniera lineare cioè tutti quanti ci sono ridotti del 20 25 per cento ma nel frattempo si è determinato un meccanismo di selezione interna ci sono all'interno dei settori anche di quelli che vanno male imprese molto deboli che hanno fatto crisi cessato l'attività licenziato fatto tanta cassa integrazione e ci sono anche però tante imprese che nel frattempo si sono risanate o che hanno resistito o che avevano condizioni proprie di forza che le hanno addirittura fatte crescere per sintetizzare questa prima parte del ragionamento noi ci troviamo che adesso in questi ultimi sei mesi vediamo un risveglio della domanda di lavoro perché la nostra è una crisi di domanda cioè le imprese hanno diminuito fortemente le assunzioni questo è il segnale perché la gente fa fatica a trovare lavoro ci sono molte aziende che licenziano e poche aziende che assumono e questo nell'ultimi sei mesi questa situazione sta migliorando più dal lato delle imprese che assumono perché purtroppo le imprese che ancora vanno in crisi e licenziano sono ancora tante mentre al tempo stesso ci sono però quelle aziende di cui parlavo prima quelle che si sono risanate che si sono riposizionate che stanno riprendendo ad assumere e per esempio noi nei primi sei mesi di quest'anno abbiamo avuto un aumento delle assunzioni rispetto allo stesso periodo del 2013 di oltre il 16% questo è stato diciamo noi lo chiamiamo un risveglio seppur timido della domanda di lavoro ecco questo risveglio in quali settori aziendali hai venduto? C'è un'azienda evocate all'export in quali realtà? sì lei ha già diciamo toccato uno dei punti in questa situazione è chiaro che le imprese capaci di riagganciare una domanda estera sono privilegiate perché la domanda interna è molto debole la domanda interna è debole e qui torna quel discorso anche del sentiment perché i consumi sono molto più bassi ma sono più bassi non solo perché ci sono più disoccupati più persone in casa integrazione una volta il giovane in famiglia trovava lavoro e consumava adesso invece le famiglie hanno ridotto fortemente i consumi ma hanno ridotto anche in parte anche per un discorso di sfiducia anche se qualcuno ha qualche risparmio lo tiene da parte mentre una volta diciamo era più tranquillo nel fare una spesa nel cambiare l'automobile nel cambiare la lavastoviglie il frigorifero nel vestirsi di più nel consumare di più andare di più al ristorante andare di più in pizzeria in questo periodo gli unici beni di consumo che non hanno flessione sono i telefonini gli ipad i telefonini che non costano neanche poco tra l'altro sì però molti li comprano indebitandosi l'unica cosa su cui la gente è portata a indebitarsi è per comprare questi oggetti quindi questo anche dovrebbe far riflettere quindi anche forse la comunicazione mantenersi a contatto con le realtà non sentirsi anche sconnessi dal resto del mondo lei si chiacchierava anche prima io sono 40 anni che mi occupo di problemi di lavoro ma un'attenzione mediatica sul tema del lavoro cioè tutte le mattine quando io apro la resegna stampa trovo tra i giornali nazionali, i giornali regionali, locali, eccetera, televisione, eccetera trovo pagine intere di articoli dedicati al tema del lavoro il passato era impensabile, questo era impensabile nessuno, cioè era uno dei temi ma non era il tema quasi ossessivo su cui tutti scrivono, tutti comunicano, tutti danno dati tutti fanno commenti, tutti dibattono e questo da un lato è anche positivo perché se vogliamo siamo in una società aperta dove circolano tante informazioni purtroppo sul lavoro le informazioni sono molto difficili da verificare è bravissima nella loro aderenza alla realtà questo le chiedo visto che lei ha una fonte che è anche attendibile insomma sono fonti di ricerca sono strumentalizzabili perché io ho avuto anche l'impressione di questo quando ne abbiamo parlato più volte per quello anche ci tenevo ad averla in qualche modo in qualche momento di incontro, di approfondimento o possibilmente di dibattito vengono strumentalizzati dalla parte che vuole sostenere una determinata tesi e di conseguenza si può anche abbattere il sentire delle persone con dei dati che creano preoccupazione come lo si può anche nascondere, sottacere e creare un'aspettativa di un certo tipo dire io ho fatto questo e i dati dicono questo diciamo che fermo restando che poi ognuno legge i dati anche filtrandoli dalla propria condizione personale però sui dati possiamo dire tre cose che possono aiutare a capire allora intanto alcuni indicatori cioè c'è un problema strutturale europeo e anche mondiale dei dati alcuni indicatori non sono più significativi nella nostra realtà faccio due esempi il tasso di disoccupazione il tasso di attività non sono più significativi come una volta perché? perché è cambiata la struttura demografica della popolazione allora quando io dico per esempio che la disoccupazione giovanile in Italia è al 45% e in Veneto al 25% do un numero allarmantissimo molto allarmante però se noi andiamo poi a vedere che i giovani sono pochi che molti studiano per fortuna che molti sono inseriti in un percorso più lungo di formazione rispetto a vent'anni fa rispetto a vent'anni fa allora io vado in questo caso non è significativa la percentuale è significativo il numero assoluto allora noi possiamo dire in questo momento quanti sono in assoluto i giovani veneti che hanno grosse difficoltà di lavorare sono circa 50.000 non sono quel numero spaventoso è sempre un numero preoccupantissimo terribile anche perché molti che lavorano sono sottooccupati fanno dei lavori ecco no ma adesso affrontiamo questo tema qua fanno dei lavori non soddisfacenti soprattutto senza prospettiva quindi senza non è che dice magari guadagno poco ora però ho una prospettiva però sono numeri diversi io le interrovo solo un secondino perché abbiamo una telefonata che è in attesa da un po' vediamo una pronto? pronto? buongiorno sono sempre io Adriana scusate se intervengo spesso ma sì signora è così è la mia indole intervenire perché se non ho capito male non sono mica tanto d'accordo su quanto ha detto il signore che i consumi sono diminuiti perché non vanno toccati i risparmi ma mi sembra ben logico che non si toccano i risparmi perché altrimenti se si toccano i risparmi se qualcuno ne ha voglio dire fortunato io penso che non sia positivo no no adesso le spieghiamo un attimo l'osservazione quando ho capito no no signora no ma diceva anche delle cose che i giovani non hanno prospettive nel lavoro questo lo so ma si devono adattare a quello che c'è per il momento perché prospettive per il lavoro non ce ne saranno ce ne sono sempre state poche cioè adesso io sono quasi una settantenne difficile che uno lavori su una fabbrica a 35-40 anni e questo mi sembra logico se è una cosa logica con tutta l'automalizzazione le tecniche che ci sono questo è il mio parere la ringrazio grazie signora adesso spieghiamo subito grazie molto no no signora lei ha ragione ma il fatto che sia logico non cambia il fatto che la gente si deve abituare a questa nuova situazione poi quando io parlavo del risparmio non lo dicevo in termini negativi era una semplice constatazione la constatazione che c'è un calo un calo che non l'ho scoperta io ci sono vari studi che c'è un calo consistente della domanda interna dovuta al cattivo andamento dell'economia al fatto che è aumentato in maniera purtroppo molto molto alta la percentuale di persone disoccupate o sottooccupate che ci sono moltissime persone in cassa integrazione e questo naturalmente inevitabilmente si riversa sui consumi delle famiglie e sulla possibilità di rilanciare la domanda interna che darebbe però in qualche modo benzina all'economia assolutamente poi c'è anche il fatto che molte persone questi sono dati che vengono anche dalle banche non solo del territorio anche nazionali persone che hanno magari il lavoro fisso sempre quel guadagno eccetera e che mettono da parte più soldi non li spendono mentre prima magari li avrebbero spesi cioè non guadagnano di meno non hanno neanche spese mostruosamente superiori ma semplicemente li mettono i conti in banca i conti correnti sono aumentati in banca perché risparmiano di più per alcuni per altri invece si stanno prosciugando perché viceversa non riescono neanche a vivere del quotidiano per cui abbiamo queste sperequazioni pazzesche per cui non è il fatto è che se uno risparmia di più ovviamente c'è la deflazione questa è la situazione attuale ecco magari riprendendo il discorso sui numeri quindi accanto al problema dei numeri del significato di alcuni numeri poi c'è l'altro fenomeno tipicamente italiano che sulla base di quello che in qualche modo buca il video si creano dei fenomeni legati a questa a questa cioè quella cosa viene vista come una verità no e questo naturalmente serve più per a livello mediatico non solo a livello mediatico ma serve anche più per sostenere le proprie posizioni piuttosto che fare chiarezza e qui faccio un altro esempio l'esempio sul fatto che in Italia ci sono 46 tipologie di rapporti di lavoro troppi rapporti di lavoro è una grande fesseria cioè ma io tutti quelli che lo affermano sono sempre tentato di interrompere e dire guarda ti assolvo se me ne dici 20 hai detto che sono 46 almeno dimmene 20 quanti sarebbero in realtà in realtà i rapporti di lavoro tra il lavoro subordinato e qualche lavoro autonomo usato dall'impresa in realtà non sono più di 6-7 perché noi abbiamo il rapporto a tempo indeterminato il rapporto a tempo determinato diretto o in somministrazione e poi abbiamo alcune tipologie un pochino più l'apprendistato e alcune categorie più marginali il lavoro accessorio la collaborazione a progetto questi sono un po' i contratti usati dalle imprese dai datori di lavoro poi sento sparare che ce ne sono 46 e questo perché? perché qualcuno vuole cavalcare la proposta del contratto unico un solo contratto come se scrivendolo in una legge che c'è un contratto unico improvvisamente noi avremmo tutti assunti a tempo indeterminato belli felici il mondo felice scritto in una legge purtroppo la realtà dell'impresa la realtà economica è di tutta l'impresa scride con questo allora supponiamo che noi andassimo al contratto unico che cosa avrebbe? che tutto poi si sposterebbe non sull'entrata ma sull'uscita allora e qui mi serve per fare un altro ragionamento molto semplice ultimamente è stata un pochino reso più semplice l'utilizzo del contratto a tempo determinato rispetto alle regole precedenti in questo caso si è verificato immediatamente un forte aumento di assunzioni e anche con effetti secondo me positivi alcuni contratti che prima venivano utilizzati tipo l'intermittente oppure le collaborazioni a progetto sono diventati contratti a tempo determinato questo che cosa significa? significa che le imprese che prima avevano paura di contratti che in qualche modo erano di difficile interpretazione normativa con problemi di contenzioso eccetera hanno trovato uno strumento semplice da utilizzare che gli lascia la possibilità di ripensarci perché tutti sono indecisi incerti sul futuro del fatturato dell'azienda sostanzialmente esatto oppure ho il lavoro per questo periodo prima di impegnarmi preferisco inserire due o tre persone temporaneamente poi se le cose vanno bene le confermo le trasformo questo è un intervento che ha dato effetti positivi assolutamente questo è molto importante sono arrivati i messaggi un po' di scoramento nel senso che questo è peggio di una guerra quello che sta accadendo perché nella guerra dopo c'era almeno la ricostruzione qui invece si va verso uno sfaldamento sempre più forte di un po' di tutto il sistema ma questo discorso che siamo in una guerra non si sente eccetera ed è vero perché con una situazione in cui io posso dare dei dati molto precisi 5.000 imprese con più di 15 dipendenti in questi sei anni sono andate in crisi sono andate in crisi coinvolgendo qualcosa come 46.000 lavoratori altro che guerra è una guerra però contemporaneamente noi viviamo nel mondo del lavoro nell'economia non ci sono mai i periodi netti cioè noi abbiamo una guerra e contemporaneamente una ricostruzione questo è l'elemento cioè non è che siamo come nelle situazioni di altri fenomeni sociali in cui ci sono periodi netti un periodo tutto nero uno tutto grigio è talmente variegata la situazione è talmente complessa che contemporanea nel mente continuano alcuni a possiamo paragonarla di più a un'epidemia che a una guerra c'è stata una gravissima epidemia che ha portato purtroppo a impedire ad alcune aziende che si potevano risanare di risanarsi ad altre che erano già messe male purtroppo sono arrivate alla morte però al tempo stesso ha dato la possibilità ad alcune a molte imprese di fare i conti per tempo con i propri sintomi e rafforzarsi e riprendersi questo è noi lo vediamo proprio dai dati abbiamo un altro dato molto importante in questi sei anni ci sono state c'è stato il 50% di imprese che ha diminuito drasticamente l'occupazione azienda per azienda ma noi abbiamo anche circa un 30% di imprese che hanno aumentato l'occupazione quindi il discorso di essere è vero siamo in guerra siamo sotto i bombardamenti ma ci sono oasi in cui la ricostruzione è ricominciata questo è importante su questo qua adesso andiamo a ricostruire il discorso successivo pubblicità pochi secondi poi siamo con voi